buongiorno agli amici del quotidiano di sicilia qds.it siamo qui per parlare purtroppo ancora una volta di covid e siamo qui per parlare di covid per quanto riguarda i bambini e siamo qui a parlare con il professor giovanni corsello grazie professore di essere qui con noi grazie a lei piacere di essere con voi allora dottore e ormai giornalmente ma insomma se non giornalmente ormai settimanalmente insomma le statistiche ci dicono che il covid corpisce anche i bambini cioè a differenza di quanto magari è successo con la prima epidemia magari può sembrare normale perché comunque con un aumento così marcato dei casi è normale che comunque tipo ci sia stato un aumento anche nella popolazione pediatrica comunque rimane abbastanza limitata la gravità per quanto riguarda i più piccoli giusto sì questo è dovuto anche al fatto che in questo anno il virus è cambiato rispetto a quello originario perché il virus originario aveva effettivamente una certa difficoltà a entrare in contatto e a contagiare in modo diffuso i bambini per un problema anche di tipo di recettori che erano meno espressi nei bambini rispetto agli adulti questa nuove varianti in particolar modo la omicron invece ha cambiato il suo assetto le sulla sua forma e anche e quindi le proteine esterne in parte ed è più contagioso anche per i bambini perché utilizza dei ricettori diversi quindi ci troviamo di fronte in questa fase della pandemia a un virus che si contagia in modo più esteso e più facile non solo tra gli adulti ma anche tra i bambini e quindi come lei diceva aumentando il numero dei bambini contagiati aumenta anche il numero dei bambini che hanno delle patologie respiratorie soprattutto in questa stagione epidemica in cui tutti i virus respiratori sono particolarmente diffusi quindi il covid è in questo momento una malattia che coinvolge riguarda interessa molto i bambini oltre che gli adulti oltre tutto mentre gli adulti hanno delle percentuali di vaccinazione ormai sicuramente largamente protettive i bambini hanno ancora delle percentuali di vaccinazione che non sono in grado di proteggerli in modo diffuso sia i bambini tra i 5 11 anni che hanno iniziato la vaccinazione da due tre settimane che i bambini con meno di cinque anni che ancora non si possono vaccinare perché non esiste un vaccino adatto a questa fascia di età quindi i bambini sono un serbatoio in cui questo virus per ora viaggia velocemente ma a proposito ci sono novità per quanto riguarda il vaccino covid dai 0 ai cinque anni 0 4 le novità sono che gli studi e la sperimentazione sta andando avanti in particolar modo negli stati uniti e quindi siamo ormai alla vigilia di un vaccino che potrebbe essere già disponibile durante la primavera e quindi pronto anche per la prossima stagione però noi in questo momento abbiamo la necessità di concentrare gli sforzi per far sì che il maggior numero di bambini possibili si vaccinino nella fascia tra 5 e 11 anni perché sono i bambini di età scolare sono i bambini che devono riprendere le attività didattiche in presenza perché questo è importante per la loro crescita il loro sviluppo e devono farlo in sicurezza devono poter avere una vita di relazione una vita sociale centrata sulla scuola ma anche sulle attività ludiche ricreative e possono farlo in sicurezza solo se sono vaccinati quindi dobbiamo concentrare gli sforzi per far sì che queste percentuali salgano rapidamente e lo dico perché purtroppo invece la sicilia una di quelle regioni in cui le percentuali rispetto alla media nazionale sono più basse quindi per un lavoro che dobbiamo certamente fare di più e meglio e comunque anche magari anche per cercare un attimino di tranquillizzare i genitori è un virus è comunque contagioso ma non troppo pericoloso per i bambini giusto certo sì mediamente il questa malattia il covite 19 nei bambini colpisce le vie respiratori in modo lieve quindi manifestazioni che sono simili a quelle delle altre patologie la febbre le secrezioni nasali abbondante la tosse non è nella maggioranza dei casi una patologia che preoccupa e può essere gestita in ambito sicuramente casalingo domiciliare però purtroppo aumentando il numero assoluto cioè il numero di bambini che si contagiano aumenta anche e lo vediamo negli ospedali il numero di quei bambini che possono avere delle complicanze quindi la polmonite o la delle manifestazioni di tipo vasculitico abbiamo sicuramente un maggior numero di bambini che si possono fare delle forme più gravi che richiedono una ospedalizzazione prolungata l'unico modo per evitare che ci siano questi casi è quello di vaccinarsi perché vaccinandosi naturalmente non solo la malattia si riduce anche nelle forme lieve ma soprattutto si riducono il numero di bambini che vanno incontro a forme lunghe e complicate e poi c'è tutta una serie di studi che stanno cercando di capire quanto i bambini che si fanno il covid rischiano delle conseguenze a distanza e quella situazione che si chiama lo covid che è meglio studiata naturalmente negli adulti e che però ha già anche delle evidenze di possibilità nei bambini e con con sintomi che non sono solo di tipo respiratorio ma che possono essere anche sintomi legati a un coinvolgimento neurologico quindi ci sono pochi casi ma esistono e possiamo prevedirli solo con la vaccinazione però appunto per i bambini più piccoli che cosa si può fare dato che non si può vaccinare ok stare attenti eccetera eccetera però affidavano certo però vaccinando i bambini di età scolare si proteggono anche indirettamente i bambini più piccoli che spesso in ambito casalingo convivono anche con con bambini che magari hanno delle attività sociali più intense quindi aumentare la vaccinazione nel tra gli adolescenti e tra i bambini serve anche in parte per proteggere i più piccoli e certo i più piccoli naturalmente devono essere protetti anche in altro modo con le misure igieniche ambientale evitando il sovraffollamento cercando di garantire la il le attività anche sia a casa che negli asili più o meno sempre con gli stessi bambini quindi riducendo il quella che si chiama sovraffollamento le classi pollaio il la promiscuità quindi cercando di agire in modo indiretto per proteggerli di più in attesa che anche per loro esista la possibilità di una immunizzazione partendo dal presupposto importante che va ribadito che il vaccino anticovidi vaccini anticovidi sono assolutamente sicuri sono efficaci anche se richiedono i naturalmente i richiami e quello pediatrico lo è ulteriormente ancora di più perché ha una dose più bassa ridotta di circa 40 per cento e quello per i bambini più piccoli lo sarà ancora più ridotto e quindi anche gli effetti avversi gli effetti collaterali sono assolutamente minimi e che non tali da testare preoccupazione nelle famiglie dottore riempi da parlare appunto che la stragrande maggioranza dei bambini viene curata a casa se pia se prende il copido c'è una proficassi che un genitore può comunque utilizzare quando il bambino ha il copido a casa c'è che cosa deve fare tecnicamente c'è a parte ovviamente la sorveglianza capire se il bambino si riprende peggiora ma si c'è una cura ecco non so una proficassi non so come definirla la stragrande maggioranza delle malattie virali non esiste una cura specifica così come non esiste una profilassi farmacologica che si può fare per evitare che i bambini contraggano la malattia nel nella maggioranza dei casi la gestione è sintomatica quindi si danno i farmaci che servono per alleviare i sintomi quando ci sono e quindi essenzialmente gli antinfiammatori e il paracetamolo che giovano per il rialzo termico per la febbre e anche per la tosse se una tosse di che disturba il bambino naturalmente se i sintomi persistono per oltre 48 72 ore allora in questo caso dietro un intervento e un controllo del pediatra può essere utile associare alla terapia sintomatica anche una terapia che possa evitare al bambino delle complicanze delle sovrainfezioni di tipo batterico e quindi mi riferisco all'antibiotico ed eventualmente al cortisone però questo l'utilizzo dell'antibiotica del cortisone non sono la regola non hanno un effetto preventivo che devono essere fatte solo in presenza di sintomi che durano oltre il periodo classico standard di due tre giorni che è quello delle infezioni virali stagionali o in presenza di sintomi che possono essere espressione di una sovrainfezione batterica quando il il oltre alla febbre e alla tosse che perdurano compaiono anche difficoltà respiratorie oppure anche nel bambino più piccolo difficoltà di alimentarsi o altri sintomi generali allora in quel caso diventa necessario fare una valutazione di laboratorio per capire se siamo di fronte a quei casi rari che possono essere più complicati e hanno bisogno di una gestione ospedaliera quindi questo è un po' il comportamento che la famiglia deve seguire limitarsi al trattamento sintomatico nei primi due tre giorni condividere con il pediatra l'eventuale terapia quando i sintomi persistono e stare molto attenti e sorvegliare perché alla comparsa di sintomi diversi o più allarmanti di tipo prevalentemente respiratorio recarsi al pronto soccorso per fare una valutazione della saturazione ed eventualmente di altre indagini Dottor io ringrazio anche per averci cercato anche di tranquillizzare insomma speriamo che andrà tutto bene in effetti bisogna occuparsi di queste condizioni perché la patologia nei bambini di solito non è grave ma esiste deve essere giusto conosciuta riconosciuta anche per trattare meglio quei pochi casi che tendono a complicarsi esiste un'altra situazione che richiede molta attenzione in questo momento che è quello che riguarda le donne gravide perché abbiamo segnalazioni di forme gravi sia per le mamme che per i neonati quando la malattia è contagiata durante la gravidanza quindi il messaggio della vaccinazione in gravidanza è importante proprio per evitare che possano esserci delle complicanze non sempre facilmente trattabili che riguardano appunto la gravidanza il rischio del parto pretermine, il rischio di danni respiratori nel neonato quindi questo è un altro suggerimento che va condiviso e diffuso non avere preoccupazione di vaccinarsi in gravidanza anzi è importante per la protezione che questo consente grazie dottore, grazie ancora veramente buongiorno buona giornata buona giornata grazie